Colpo nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile all'interno di un'azienda di Artegna. È stato il titolare ad accorgersi dell'intrusione sgradita di ladri al mattino. Ha subito sporto denunce ai carabinieri della stazione di Buia. I malviventi sono entrati all'interno dello stabile forzando una finestra. Una volta dentro hanno messo a soccuado l'ufficio. Il bottino supera tra denaro contante e molini in oro i 4.000 euro, oltre al danno provocato. Sotto la lente investigativa le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso.